ma pensa a te oggi la nona non sta tanto bene io le ho detto che cosa vuoi fare c'è un regalino lo apriamo oggi o domani oggi oggi no 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 sto meglio oh è passato c'è il sole è guarito allora dentro a questo bel pacchettino c'è un angioletto un angioletto ma tutti mi aiuteranno questi angioletti grazie grazie di un angioletto e poi con una bella cuffietta rossa e poi c'è un pacchettino che sberlucica tutto sbrillantinante ma guarda ma guarda ma guarda mamma che bella questa non l'ho mai vista la collana così bella ma guarda ma grazie ma grazie guarda come stanno bene come stanno bene ma che belle che signorina quante collane hai su non le ho mai viste queste cose proprio mai 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 non le ho proprio mai viste mamma ma che belle ma che belle ma guarda come sono belle ma sono belle ma non le ho proprio mai viste guarda c'è scritto che sono fatte a mano con gli ujai oh sì sì sono fatte sicuro a mano sì grazie 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 ma guarda che regalo brava 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 ma hai fatto veramente un bel regalo grazie togliamo la bambolina ma guarda ma che belle ma che belle grazie 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 sei proprio una asciura guarda come sei tu a bracciali e collane ma è un angioletto che mi guarda ma guarda un angioletto la metto sempre sul mio preseppio sul mio alberello grazie è anche se bello un bel colore vestito grazie ti voglio tanto bene grazie a te l'altro 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 grazie a te